Nel Santorio di Valverde è stato nominato ieri dall'Arcivescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, il nuovo parroco dell'Ordine degli Agostiniani in Scalzi. Si tratta del brasiliano Ney Marzio Simono, di 38 anni. Gli altri due frati, Gelsondo Santos Lazzarin, 30 anni, e Leandro Xavier Drodigues, 32, saranno i vicari. Il nuovo parroco succede a Don Salvatore Salvaggio Oad, che sarà trasferito a Marsala. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dall'Alto Prelato. Al termine, il vecchio parroco ha ringraziato i suoi parrocchiani per l'amore che gli hanno dimostrato in questi anni. Saluti anche da parte del sindaco Saro Dagata, che ha offerto massima collaborazione a tutte le iniziative religiose, sociali e aggregative che padre Ney vorrà realizzare per Valverde.